Abbiamo sentito negli ultimi mesi da tutte le istanze che arrivano dal territorio che occorre affrontare la problematica del rapporto tra le valli, tra le zone periferiche del Trentino e le loro problematiche che vivono quotidianamente. Quindi noi iniziamo un percorso sul territorio, nelle zone principali, si tratta di 6 o 7 appuntamenti dove recepiremo le istanze che ci arrivano dai vari attori interessati, quindi amministrazioni, associazioni, categorie, cittadini e il tutto finirà con una convention unica che si terrà in una data finale e lì faremo la sintesi di tutte queste sensibilità che abbiamo raccolto. E' chiaro che sarà importante il contributo portato da tutti i vari attori, tra questi anche il mondo cooperativo.